Marco Borgogno, la lista della Torre è pronta a scendere in campo e si vocifera che possa essere proprio lei il candidato prescelto. Sì, che si vociferi questo è sicuro, che sia già definito ancora no. La Torre ha governato Borgo negli anni del re d'oro, nell'ultimo periodo in cui c'è stata una forte industrializzazione. Attualmente i miei vecchi compagni di cammino di quel periodo si sono riuniti per tentare di dare un futuro a una città che onestamente sta un po' colanguendo. Era quando qui c'è l'iniziativa. Lei è pronta a tornare quindi nell'arena politica? Ma io non ci sono mai uscito per la verità dall'arena politica. Non pensavo più onestamente di ritornarsi e lo dico con la massima sincerità. Ora sto valutando se le pressioni che mi stanno facendo siano poi conformi ad una possibilità di trovare della gente disponibile a collaborare. A entrare nella squadra? Sì. Le elezioni sembra quasi sicuro che slitteranno dalla primavera a giugno oppure a ottobre e quindi c'è tutto il tempo per preparare anche un programma. Ma in particolare io le chiedo che cos'è che lei vorrebbe fare e non ha fatto quando era sindaco? Qual è il rimpianto che ha che vorrebbe fare? No, rimpianti non ne ho proprio. Si tratta però praticamente di disfare quello che ho fatto, se possiamo fare una sintesi. Nel senso che allora abbiamo dato un forte impegno all'industria, all'economia. Abbiamo 1200 partite IVA, Borgo, quindi un artigianato fortissimo. Oggi si tratta di fare un'azione post-industriale e passare ad un nuovo sistema che riabiliti questa città così come era negli anni passati. Attualmente c'è una crisi nel Consiglio Comunale, addirittura si pensa che la maggioranza stia vacillando dopo l'ennesima dimissione di un assessore. Qual è la sua opinione in merito? Effettivamente c'è qualcosa che non funziona, questo è nei fatti. Mi viene da sorridere perché io nei miei primi due mandati, ero amoro con i tempi della proporzionale, ho sempre preso crisi del Comune, quindi non vorrei che questa fosse una conseguenza logica del mio impegno futuro. Parliamo allora del suo impegno anche come scrittore, perché lei nell'ultimo libro, profeticamente, descrive uno scenario apocalittico dovuto a una pandemia. Secondo lei i due anni di Covid e di lockdown, pandemia hanno lasciato degli strascichi a Borgo San Dalmazzo? Ma in tutto il mondo penso, non soltanto a Borgo San Dalmazzo, non si può dare la colpa a un piccolo comune o comunque alla città perché le cose non siano funzionate. Sicuramente c'è un complesso di cose dovuto alla pandemia, dovuto a un nuovo sistema di vedere le cose, dovuto a un cambio repentino delle tecnologie che ha fatto di Borgo, come di tutti gli altri comuni, un momento di retroguardia, quindi bisogna di nuovo guardare al futuro. Qual è stato il giorno più bello come sindaco? Non penso di ricordarmene uno in particolare perché in vent'anni di momenti ce ne sono stati parecchi. Diciamo che proprio in questo sito concludemmo l'acquisto della Bertello mi pare nel 95 con soldi nostri. Ebbè fu l'inizio di una città che stava veramente quasi quasi superando Cugno, adesso lo dico scherzosamente perché allora con Cugno c'era un forse impatto e quando abbiamo comprato la Bertello c'era un accordo per farne un centro culturale di vasta portata. Qui siamo infatti al santuario di Monserrato e quali altre cose si ricorda di aver fatto nei suoi oltre dieci anni di mandato? No, sono venti. Vent'anni? Sì, sono. Quindi è quello che ricordo è un po' sfumato. Ma qui in Monserrato mi ricordo che l'8 luglio dell'88 abbiamo inaugurato l'anfiteatro, era stata una grande festa ed era una delle cose che poi hanno portato Borgo a livello nazionale perché sono venuti diversi attori di importanza nazionale, bande musicali, concerti che adesso non si fanno più. Un aggettivo per descrivere la Borgo che vorrebbe poi riportare ai fasti dell'epoca? Beh, riportarla ai fasti dell'epoca sarebbe presuntuoso. Io ho un aggettivo che ce l'ho allora è futura, mi viene in mente futura proprio come titolo anche di una lista. Non l'ho mai detto a nessuno, sia chiaro, però potrebbe essere questo il pensare veramente a un cambio di totale di marcia della nostra comunità. Uno amato dai suoi cittadini, un sindaco del passato che guarda al futuro, a un nuovo futuro per Borgo San Dalmazzo. Amato mi sembra una parola grossa perché i sindaci sono soggetti a critiche indiscutibili. Però la stanno tirando per la giacchetta? Ma sì, perché probabilmente i nostri tempi erano più facili e quindi nonostante ci fossero anche allora polemiche si costruiva, si faceva. Poi in questi ultimi vent'anni in realtà grandi opere non se ne sono più fatte. La ringrazio e le auguro una buona giornata. Grazie a voi, grazie molte.